È un grande onore soprattutto venire a tifare i colori della propria città, ovvero i bianconeri della Biosindex Asora. Sono felice che Gino mi abbia invitata, che ci sia questa profonda amicizia con il presidente Gino Giannetti e con tutto lo staff, tutta la squadra che è per me un fiore all'occhiello per la mia città. È un grande orgoglio, come lo è l'amico Davide Zappacosta che gioca nel Chelsea, come lo è stata e lo è Anna Tatangelo. Insomma, siamo una bella squadra e i colori sorani li abbiamo portati come possiamo in tutti i mondi, quindi da quello dello spettacolo a quello della musica, della canzone a quello dello sport. Ed è bello vedere questi sodalizi, è una cosa particolare e molto molto emozionante. Poi un altro tassello che mi lega oggi qui è l'amicizia profonda con Ivan Zaitsev. Ho sentito prima la moglie, Aisling, e nulla. C'è un'amicizia profonda che dura da prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro e vederlo giocare contro i colori della mia città è comunque vedere giocare un amico. Sono felice che la sua squadra abbia trionfato, anche perché un'altra amicizia profonda c'è con il mister Lorenzo Bernardi. Quindi, ripeto, oggi era un derby, un derby del cuore perché era un derby dell'amicizia. E quando si è amici, quando l'amicizia trionfa, si trionfa sempre. Quindi oggi vedere la Sir Safety con Perugia che trionfa è stato bello. Certo, agguantare un set è stato ancora più bello. Quindi, insomma, sono felice di aver portato fortuna a Sora perché questo set contro Perugia è un set importante. E niente, la partita è andata a loro, va benissimo così, ma lo sport è una cosa meravigliosa perché è un momento di aggregazione, un momento di grande, grande vicinanza tra tifosi e sportivi, tra insomma tutte le persone che lavorano affinché uno spettacolo del genere riesca. Quindi per me è una grande gioia essere stata scelta come ambasciatrice, come madrina di uno sport meraviglioso che è la pallavolo. Perfetto.